un saluto a tutti ben trovati a questo approfondimento dedicato al project manager eh io mi presento sono Valeria Nevadini della struttura orientamento al lavoro e digitalizzazione della Camera di Commercio di Roma e a brevissimo vedremo eh nel dettaglio caratteristiche eh e funzioni di questa figura professionale cercheremo di eh approfondirne il percorso formativo e anche eh di ehm presentare quelle che sono le opportunità lavorative eh lo faremo con il prezioso contributo di Rosario Russo anche lui della Camera di Commercio di Roma che vado a salutare ben trovato Rosario. Grazie e buongiorno a tutti. Perfetto. Intanto eh prima di darti la parola e quindi entrare più nel dettaglio del focus di di oggi una premessa. Il sistema delle funzioni eh delle Camere di Commercio è stato oggetto di una riforma legislativa nel duemilasedici e proprio tra le funzioni assegnate alle Camere di Commercio che rientra quella relativa all'orientamento al lavoro e alle professioni. Ecco allora che eh un contributo come questo intende inserirsi eh nella eh disponibilità di strumenti utili per quanti vogliano eh approfondire e intercettare quelli che sono i trend occupazionali del mercato anche soprattutto in un'ottica di ricollocazione eh professionale. Ehm perché proprio un approfondimento sul project manager intanto eh condivido con voi alcuni dati. Secondo una ricerca condotta dal project manager management institute eh infatti nei prossimi dieci anni la domanda di project manager qualificati da parte delle imprese crescerà eh del trentatré per cento e quindi eh si creeranno circa ventidue milioni di nuovi posti di lavoro. Per quanto riguarda invece il contesto italiano più nello specifico l'ultimo report dei future of jobs del World Economic Forum eh evidenzia come uno dei ruoli professionali emergenti all'interno delle organizzazioni italiane sarà proprio quello del project manager. Quindi già questi dati ci fanno un attimo capire l'importanza strategica che sta assumendo una figura come questa anche e soprattutto nel contesto economico attuale che stiamo vivendo. Quindi ci sarà sicuramente sempre di più bisogno eh di persone professionali e competenti e ehm che sappiano anche mettere eh in pratica quelli che sono i principi eh del project management quindi eh la progettazione, la pianificazione e ehm la realizzazione degli obiettivi di uno specifico eh progetto. Eh non mi dilungherei oltre, Rosario ti passerei la parola e intanto ti chiederei di eh illustrarci chi è il project manager e eh di che cosa si occupa. Benissimo, grazie Valeria. Adesso condivido lo schermo con voi. E possiamo procedere con la eh presentazione. Beh intanto eh dobbiamo dire che hai centrato sicuramente il punto con la tua introduzione. Il project manager è una delle figure che sicuramente eh sono rimaste eh diciamo eh presenti nel eh panorama delle professioni sicuramente del futuro anche se non è una professione eh nuovissima comunque mantiene una attualità eh non indifferente perché è una eh diciamo professione molto trasversale eh metodologica che serve comunque in tutti gli ambiti eh professionalizzanti anche quelli appunto della digitalizzazione. Eh introdurrei intanto eh l'indice andremo a vedere che cos'è il project management, chi e cosa fa il project manager, il percorso formativo, le certificazioni e la normativa tecnica di riferimento, un focus, un piccolo focus sul digital project manager e alcuni tools utili. Eh intanto che cos'è il project management? Il project management per definizione, una definizione eh presa appunto dal project management institute eh è l'applicazione di conoscenze, attitudini, strumenti e tecniche alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi. Quindi eh in un primo frangente possiamo dire che l'importanza eh di questa figura è sicuramente centrata al tema del lavoro per obiettivi che è un'altra delle diciamo eh modalità nuove di eh lavoro che ci sono oggi. Eh richiede sicuramente un approccio disciplinato in grado di porre intanto queste tre domande al eh diciamo al project manager o comunque a chi chi vuole avvicinarsi a questa professione. Che cosa deve essere fatto? Quando deve essere fatto? In quale ordine? Quindi c'è anche una ehm come dire un aspetto di priorità non indifferente e a che punto è il progetto? Eh che cos'è il progetto? Facciamo anche un'introduzione sul sulla terminologia di che cos'è il progetto. Secondo l'istituto italiano di project management il progetto è un iter complesso e di durata determinata volto al raggiungimento di un obiettivo prefissato mediante un continuo processo di pianificazione, esecuzione e controllo. L'unicità e la collocazione temporalmente definita ovviamente sono le caratteristiche principali dell'attività di gestione di un progetto. Ma il progetto ha anche un ciclo e anche delle fasi. Eh la eh gestione dei progetti eh è la locomotiva che muove l'organizzazione in avanti secondo Joy Gums, direttore di Project Auditors. Questa è una citazione del 2021 che mi sembrava appropriato eh introdurre qui. Eh il progetto appunto delle fasi e eh sono fasi che devono essere in qualche modo eh rispettate. Ha una fase di avvio, ha una fase di pianificazione, ha una fase di esecuzione, è una fase di consegna. Ma andando a vedere poi chi è diciamo il project manager, abbiamo adesso fatto un piccolo passaggio sul project management, ma il project manager diversamente dal progettista, che è colui che poi diciamo in qualche modo in maniera operativa redige il progetto, è quella figura professionale responsabile del coordinamento dell'integrazione di tutte le attività di un progetto finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. È ovvio che il project manager non lavora solo, il progetto risponde a più attori della filiera eh progettuale e in qualche modo il project manager deve curare anche questa eh filiera. Che cosa fa poi nello specifico? Possiamo diciamo individuare in questo caso eh tre approcci eh importanti. Eh il primo è quello di applicare tecniche e metodi di project management che è una disciplina specifica che ha appunto eh metodi molto eh specifici e personalizzati e personalizzanti. Dopo è un traduttore del progetto, ovvero diffonde l'idea progettuale, guida il team verso l'obiettivo prefissato, intercetta l'interesse dell'investitore del progetto e parla la stessa lingua dei professionisti che sono eh diciamo eh con cui il progetto viene condiviso. E come terzo approccio monitora, questo è fondamentale, il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità del progetto. Quindi come potete vedere abbiamo delle metodologie di project management. Abbiamo delle delle azioni che il project manager deve fare non solo redigere il progetto in maniera operativa ma rispondere a tutta una serie di di cose e quindi diciamo come potete ben vedere è una figura molto poliedrica nel diciamo eh panorama delle eh delle professioni. Eh qui abbiamo inserito eh un po' eh dei delle parole chiave che hanno a che fare con la figura del project manager, l'ABC del project manager. Sono tutte parole chiave che appunto rientrano all'interno di questa figura professionale ed è utile conoscere. Eh noi abbiamo individuato diciamo in qualche modo quattro parole chiave che vogliamo in qualche modo andare un po' a eh spiegarvi ma sicuramente è utile andarsele eh a poi a vedere tutte. Eh abbiamo individuato la parola chiave stakeholder sono le parti interessate ovvero quelle che hanno un interesse per il risultato del tuo progetto. Non abbiamo solo le persone che appunto a cui il progetto è riferito ma ci sono poi anche gli stakeholder che sono interessati a quel progetto anche in maniera indiretta se vogliamo e quindi sono eh delle diciamo è un target che bisogna prendere come punto di riferimento per stilare il progetto e per gestirlo. Eh abbiamo il tracciamento del tempo che ovviamente è un metodo efficace di project management per registrare e tracciare il tempo trascorso su un compito specifico o un'attività all'interno del progetto. Ogni attività, ogni task ha dei compiti specifici che devono essere in qualche modo tracciati. Poi c'è eh questo termine che spesso viene eh utilizzato e che è presente eh lo si ritrova appunto spesso che è l'approccio a cascata. È un piano dettagliato e la calendarizzazione, la consegna del progetto completato. Quindi qui rientriamo appunto nel tema della delle priorità e della calendarizzazione eh del progetto. Infine chiudiamo con il triangolo di ferro o triplice vincolo. Questo è eh diciamo eh tradizionale nei progetti eh appunto di eh nelle attività di project management che è la combinazione dei tre vincoli più rilevanti rispetto ai progetti ovvero l'ambito, i tempi e i costi. Tutti e tre questi elementi sono ovviamente interdipendenti. Nessuno di questi tre elementi può essere modificato senza condizionare uno degli altri o entrambi e quindi questo è anche un aspetto fondamentale. Grazie a questi aspetti che abbiamo individuato e grazie alle tecniche di project management ovviamente se vengono seguiti diciamo eh in maniera rigorosa portano a dei vantaggi che poi sono è un altro obiettivo cioè non la riuscita non soltanto la riuscita del progetto ma anche la gestione efficace del progetto stesso perché il progetto può anche riuscire ma può avere anche una gestione come dire disastrosa e quindi ci potrebbero essere dei problemi. Quindi i vantaggi sono fondamentali e sono quelli di soddisfare le aspettative di tutte le parti interessate, mantenere una focalizzazione ovviamente sugli obiettivi perché si lavora per obiettivi, massimizzare le risorse, impostare una progettazione che sia il più realistica possibile, assicurare un controllo qualità durante le fasi del progetto, gestire i rischi, mantenere una sorveglianza continua, ridurre le probabilità di fallimento e gestire il successo e anche il fallimento su determinate fasi qualora ci sia e imparare anche dagli errori. Non so se su questo avevi delle indicazioni. Stavo chiarissimo Rosario, perfetto, grazie perché queste prime slide in realtà ci hanno aiutato a mettere a fuoco i contorni professionali di questa figura. Direi a questo punto che si tratta quasi di un approccio metodologico trasversale se così vogliamo vederlo. Quindi sicuramente lavorare per obiettivi, arrivare a massimizzare le risorse e diciamo anche a controllare poi il processo step by step, possiamo considerarlo quasi una metodologia lavorativa, devo dire applicabile a diversi ambiti. Ti chiederei adesso di affrontare invece il tema delle competenze, nel senso che una volta inquadrate quelle che sono le funzioni di questa figura professionale, ti chiederei invece di condividere con noi il percorso formativo. Innanzitutto quali sono le competenze necessarie per specializzarsi in questo campo, soprattutto l'importanza delle cosiddette soft skill, quindi quel bagaglio di competenze trasversali che credo a questo punto riguardino anche un profilo di questo tipo e subito dopo appunto ti chiederei un focus maggiormente dettagliato proprio su il percorso formativo per chiunque insomma intenda specializzarsi in questo settore. A te la parola. Grazie Valeria, sì hai detto bene, è una metodologia fondamentale che vale un po' per tutti gli ambiti lavorativi, infatti non è una vera e propria come dire professione nata ieri, è una professione che esiste da moltissimo tempo, però allo stesso tempo è una professione versatile che va a insinuarsi anche in quelle che sono le dinamiche dell'innovazione se vogliamo e quindi applicabile a praticamente tutti gli ambiti della vita lavorativa, soprattutto in una fase in cui il lavorare appunto per progetti e per obiettivi sta diventando un po' anche la regola. Abbiamo parlato di competenze, ha introdotto il tema delle soft skills, ovviamente le soft skills sono presenti in questa in questa professione, nello svolgimento del suo lavoro il project manager deve possedere sì appunto le soft skills ma anche competenze tecniche ed economico gestionali diciamo non secondarie perché l'importanza di appunto pianificare e definire obiettivi, stimare costi, gestire il rischio e pianificare scadenze quindi avere a che fare anche con la gestione del tempo sono sicuramente diciamo delle tecniche che vanno in qualche modo perseguite anche attraverso corsi diciamo di laurea, percorsi formativi eccetera. Ovviamente le soft skills giocano un ruolo fondamentale, queste si acquisiscono anche con l'esperienza lavorativa, non soltanto in percorsi formativi e sicuramente la capacità di guidare un team è fondamentale per un project manager che solitamente lavora con anche diciamo con una squadra a supporto, creare una visione, ispirare lo stesso team quindi avere anche una leadership situazionale non indifferente, comunicare è importante anche questo perché appunto nelle fasi del progetto appunto anche sia la comunicazione interna al proprio team o ai responsabili superiori sia la comunicazione interna ai propri stakeholder o comunque a coloro che appunto rispondono poi in qualche modo del progetto è fondamentale così come è fondamentale anche una buona dose di negoziazione e di mediazione perché durante le fasi progettuali ci sono moltissimi aspetti su cui è importante sempre ritornare che a volte prevedono anche fasi di negoziazione molto impegnativa e di mediazione impegnativa per trovare anche dei punti in comune soprattutto quando il progetto appunto riguarda più più enti più imprese e noi ci troviamo a coordinare appunto con più realtà qui abbiamo fatto un elenco di conoscenze e di competenze allo stesso modo per diciamo orientare i nostri utenti i nostri ascoltatori perché anche per quanto riguarda la figura del project manager ci sono una serie di competenze che poi vengono richieste sul mercato del lavoro così come ci sono delle conoscenze di base per poter per potersi avviare a questa professione noi le abbiamo elencate qui in un'unica pagina non vado a fare la lettura della lista della spesa ma diciamo per quanto riguarda le competenze quello messo in grassetto è molto interessante cioè diviso in quattro parti abbiamo la rappresentazione delle potenzialità di un intervento di un progetto la gestione del progetto vero e proprio la progettazione poi dell'intervento e la definizione gestione di un sistema di monitoraggio e valutazione dello stesso progetto sono tutte fasi su cui bisogna in qualche modo essere diciamo formati ad affrontarle andrei avanti sul percorso formativo anche questo aspetto molto importante ma rispetto ad altre professioni diciamo che per il project manager c'è una maglia più larga se vogliamo che cosa significa che diciamo c'è la possibilità di coltivare questa professionalità diciamo andando a scegliere anche più percorsi percorsi di laurea o comunque percorsi professionali di formazione professionale pensiamo ai corsi di laurea ad esempio di economia di marketing e comunicazione di ingegneria come ad esempio corsi di ingegneria gestionale specifici master e corsi di project management con una certificazione ovviamente annessa esperienze sul campo e autoimprenditorialità come ad esempio l'ambito delle l'ambito startup o le professioni dello startup per esempio formazione tecnica con base di architettura e progettazione per ovviamente particolari per particolari settori ci sono ovviamente dei risultati che si possono raggiungere dai percorsi di apprendimento appunto l'elaborazione l'implementazione la gestione dei progetti la capacità di coordinamento l'abilità relazionale e la capacità di processi di controllo quindi questi sono i risultati che si raggiungono se si vanno poi a individuare dei percorsi formativi che non sono per forza specifici ma poi all'interno di quel percorso ci si può appunto specializzare andando a come dire a interessarsi più di materie diciamo di caratteristiche che hanno a che fare con il project management ovviamente anche su questo ambito c'è una certificazione c'è una normativa tecnica di riferimento esistono diverse tipologie di certificazione quindi abbiamo inserito quelle più conosciute conseguire la certificazione dimostra il possesso di competenze sul project management in base a contenuti e standard di riferimento stabiliti dal rispettivo ente che rilascia queste certificazioni spesso vengono rilasciate appunto anche con l'abbiamo detto specifici corsi di project management le nuove norme che diciamo vanno a come dire normativizzare la certificazione sono al momento attualmente queste due abbiamo inserito la norma un iso 21 502 e la norma un iso 21 500 che riguardano entrambe gestione di progetti programmi e portfolio guida la gestione dei progetti e gestione i progetti dei programmi e del portfolio contesto e concetti anche in questo caso noi vi consigliamo di andare a spulciare anche queste certificazioni che danno ulteriori come dire ulteriore orientamento su questa figura professionale non so se su questo avevi delle osservazioni no rosario allora puoi anche andare direttamente alla slide successiva perché stavo appunto per ci stiamo avviando chiaramente verso la conclusione il tempo insomma a nostra disposizione sta finendo e quindi mi faceva piacere insomma condividere con chi ha deciso di approfondire insieme a noi questa figura professionale proprio diciamo con l'ultima parte esattamente dedicata un po' all'emunzione per così dire in chiave digitale di questa figura professionale insomma abbiamo visto fino adesso che un po' questa trasversalità nell'approccio eh metodologico tipico del project management in qualche modo si riflette anche nel percorso formativo effettivamente come tu hai ben illustrato ci sono diverse strade che si possono intraprendere per appunto poi arrivare a specializzarsi in questo settore unendo chiaramente competenze più specifiche a quelle ormai necessarie rappresentate dalle soft skill direi appunto di concludere con un focus sul digital project manager benissimo sì abbiamo detto che questa è una figura trasversale che poi in qualche modo al giorno d'oggi va in qualche modo a specializzarsi anche in quella che è la transizione eh digitale o comunque i progetti di comunicazione digitale abbiamo visto in una prima puntata eh il tema dell'innovation manager per esempio che è fondamentalmente un project manager applicato all'innovazione in questo caso andiamo a eh descrivere il digital project manager che è il classico eh come dire project manager classico account che noi possiamo ritrovare in un'agenzia di comunicazione piuttosto che in un in un'azienda che fa consulenza su appunto progettazione eh di in ambito eh digitale appunto di mh progetti che hanno a che fare con con la comunicazione digitale è una figura in linea con la rivoluzione tecnologica in atto assume un ruolo cardine anche al servizio di imprese organizzazioni nel definire e gestire appunto progetti digitali in ogni fase del processo quindi sia in una frase proprio di progettuale esterna del progetto di eh appunto di eh attuazione del progetto ma anche in una fase gestionale di processo eh al proprio interno avvalendosi appunto di strumenti digitali per tutta una serie di eh azioni di gestione del progetto stesso si occupa della pianificazione dello sviluppo di tutte le azioni necessarie per raggiungere ovviamente gli obiettivi anche qui abbiamo il tema degli obiettivi sempre fondamentale deve tenerci o eh deve tenere però conto di vincoli posti dal committente perché in questi progetti hanno a che fare col col diciamo con ambiti di digitalizzazione comunque eh anche qui è rilevante rispetto dei tempi stabiliti la qualità del risultato e il rispetto anche del budget stanziato eh diciamo che l'improvvisazione anche in questo ambito non è consigliata deve valutare anche in questo frangente eh costi e benefici l'abbiamo detto anche prima delle soluzioni e realizzare strategie capaci di abbracciare anche più strumenti eh digitali qual è il background e quali sono le competenze di questa eh di questa diciamo figura professionale del project manager più specifica nell'ambito digital la padronanza di strumenti di web marketing le approfondite conoscenze di SEO anche in ambito e-commerce social media marketing eh ovviamente l'analisi numerica e reportistica di quello che viene fuori appunto da da quelle che possono essere campagne di advertising eh le competenze utili allo studio dei target eh di riferimento a cui eh rivolgere questi progetti di comunicazione digitali o altro notevole attenzione alla comunicazione interna ed esterna capacità creative e motivazionali e di leadership in grado anche di eh ragionare su i di sui momenti di brainstorming con il proprio team di riferimento. C'è una cassetta degli attrezzi ovviamente ci sono eh come dire strumenti o software per il project management per la gestione dei progetti e l'ottimizzazione dei progetti dei processi di lavoro soprattutto in chiave digital eh ci sono moltissimi tools che possono distinguersi in vari tipi in base alle seguenti caratteristiche pensiamo a tools di mind mapping cioè mappe mentali mentali con funzione di brainstorming comunicazione in termo in tempo reale pensiamo alle chat file sharing cioè la possibilità di avere dei tools di archiviazione e accessi personalizzati per i team di specifici progetti abbiamo i diciamo strumenti di calendari comuni per la condivisione di appuntamenti abbiamo la funzione di gestione del lavoro attraverso software per pianificare e controllare gli stessi processi di lavoro nei vari progetti e nelle varie task eh progettuali quindi la cassetta degli attrezzi eh è fondamentale anche in chiave eh digitale ci sono moltissimi strumenti eh digitali che appunto possono essere eh possono essere utili può essere utile conoscerli eh appunto questi tools hanno delle opportunità di di utilizzo importantissimi e hanno anche caratteristiche comuni mi permetto di andare direttamente alle caratteristiche comuni perché in questo caso permettono di dividere il lavoro in task più o meno ampie da assegnare a persone specifiche consentono di tracciare tanti elementi tra cui traguardi obiettivi tempistiche budget eh le risorse umane eh ottimizzano e velocizzano in qualche modo anche la comunicazione interna tra il team e sono applicazioni anche eh che è possibile utilizzare da qualsiasi device quindi sono anche molto versatili eh alcuni esempi li abbiamo messi qua ovviamente noi qui facciamo solo un'introduzione poi vi invitiamo ovviamente a consultarveli eh voi di vostra spontanea volontà eh trello fondamentale perché permette di organizzare le proprie attività con un workflow visivo eh che ci dà subito un quadro generale dello sviluppo del progetto per task ovviamente tra elementi importanti abbiamo la bacheca la lista e le card e eh slack che è uno strumento di eh comunicazione in tempo reale disponibile come applicazione per computer dispositivi mobili e anche come applicazione web tra gli elementi importanti sono libri d'azione perché slack è un po' eh un mix tra una chat privata o di gruppo e un forum il team che si può costruire all'interno di slack e i canali tematici di discussione cioè che eh c'è la possibilità anche di eh poter approfondire eh delle tematiche specifiche con il proprio team eh all'interno della piattaforma in conclusione eh è importante eh diciamo eh valutare la possibilità di introdursi diciamo come dire di abbracciare questa professione se eh se siamo eh ben contenti di in qualche modo io lo definisco gestire il presente per progettare il futuro cioè eh ovvero eh la possibilità di associare questo processo creativo eh al creating thinking e al comportamento agile sviluppare una cultura basata sull'apprendimento continuo questo è fondamentale per chi vuole essere un project manager estendere l'azione attraverso nuovi approcci organizzativi e manageriali quindi non si smette mai di eh di imparare eh ma la tecnologia in questo caso abbiamo detto del project del digital project manager la tecnologia non basta perché è il mezzo per avviare progetti di innovazione ma un profondo cambiamento culturale organizzativo è imprescindibile e anche in questo il project manager può giocare nelle organizzazioni il ruolo eh fondamentale per andare a lavorare anche culturalmente sul gap digitale che esiste eh in Italia qual è il ruolo del project manager in questo contesto ovviamente eh assume la complessità dello scenario attuale in cui ci troviamo e eh identifica e sviluppa idee basate sulla tecnologia al fine di creare anche valore economico e sociale eh supporta le imprese anche nella definizione di iniziative di miglioramento basate su collaborazione trasversale e interdisciplinare ed è appunto propenso ad attuare eh il cambiamento attraverso quelle metodologie di cui abbiamo parlato quindi non è coinvolto solo lui ma può essere anche un fattore di coinvolgimento per per gli altri io avrei concluso e lascio la parola eh a te grazie grazie a te Rosario allora ci hai aiutato a mettere a fuoco e quindi a capire più da vicino le caratteristiche di questo profilo professionale tra l'altro come dicevi giustamente prima è una eh alfabetizzazione sul tema chiaramente noi eh vi presentiamo delle tematiche e vi invitiamo poi chiaramente ad approfondire i singoli elementi di vostro interesse speriamo comunque di esservi stati utili di essere stati esaustivi rimaniamo comunque a disposizione lo vedete in sovraimpressione questi sono i nostri contatti per cui per qualsiasi necessità potete contattarci alla nostra mail orientamento e digitalizzazione chiocciola rm.camcom.it vi comunico tra l'altro che i contributi grafici che avete visto saranno messi a vostra disposizione per cui li troverete all'interno del nostro sito ufficiale www.rm.camcom.it dove troverete un'apposita sezione dedicata proprio all'orientamento al lavoro e alle professioni una sezione che vi invito anche a consultare eh costantemente perché viene eh periodicamente aggiornata per cui mano a mano potrete trovare nuovi contenuti che eh chiaramente andiamo a a caricare e che affrontano le varie eh tematiche appunto legate a questo a questo approfondimento in generale relativo appunto al tema dell'orientamento al lavoro e alle professioni eh vi invito inoltre a seguire i nostri account social istituzionali noi siamo presenti su twitter su facebook su linkedin su instagram abbiamo anche un canale youtube vi ringraziamo ancora dell'attenzione che ci avete dedicato e vi diamo appuntamento alle nostre prossime iniziative rosario grazie ancora del tuo prezioso grazie per avermi ascoltato grazie grazie Valeria buona giornata a tutti